Sono sei i ricorsi relativi al bando fare centro accolti dal Tar. Al progetto voluto dalla regione Abruzzo per ripopolare i centri storici dell'Aquila dopo il terremoto avevano partecipato in 766 fra commercianti, artigiani e liberi professionisti con una copertura di 28 milioni di euro. I primi ricorsi preoccupano sulla tenuta del bando, ma per la CNA si tratta soltanto di casi specifici che non influenzeranno la buona riuscita di una misura fondamentale per rilanciare l'economia dei centri storici dell'Aquila. Sono casi non specifici, chiaramente sono casi che hanno accettato il ricorso da parte del Tar per quanto riguarda alcuni aspetti probabilmente formali. Questo è un elemento che va anche a rafforzare quello che è il credere nel ritorno al centro storico. Ovviamente ciò sicuramente non penso che sia un elemento di impedimento nell'intero svolgimento del bando, quindi pertanto non ci sarà meno agro sotto ogni profilo, altrimenti sarebbe una situazione di contrapposizione a un volere di inarrestabilità di quella che è la rigenerazione del centro storico. Noi sappiamo che l'artigianato era prima della situazione del terremoto, più o meno al 50% si dividevano le 1.300 attività fra artigianato, commercio e attività di servizi. Quindi pertanto quello che noi interessa è anche rigenerare quelle che sono anche le varie specificità dell'artigianato tipico locale con segnali importanti di quello che è l'aspetto della città, della cultura e di chi ha fatto di questa città un vero e proprio punto di riferimento. Fra l'altro noi abbiamo seguito anche come CNA quelle che sono le fasi anche di creazione di questo bando e su aspetti abbiamo visto che oggi come oggi perdere questa opportunità sarebbe una vera e propria diciamo sciagura per la nostra realtà della storicità, della rigenerazione, dell'aspetto diciamo attrattivo e su questo però bisogna anche capire quali sono non solo le esigenze economiche ma sono anche quelle di rendere la città accogliente sotto il profilo non solo di chi la governa e la gestisce ma di chi la vivrà e questo è un elemento importante.